Una campagna pubblicitaria che sicuramente farà parlare di sé, quella dell'aghezzo calcio femminile, l'aghezzo che piace, le signore del calcio che si sono messe a nudo, anche se è più un'allusione che altro. Assolutamente, qui non bisogna trascendere dal ruolo che hanno queste ragazze, perché loro si allenano, devono pensare a giocare, questo è stato un di più, anche sono donne, è giusto che tirino fuori anche quel lato femminile che c'è, nonostante siano infangate, nonostante facciano uno sport che solitamente in Italia viene visto maschile, in Italia. Perciò secondo me è stata una bellissima campagna fatta anche per far parlare di sé. E' uscita poi per la festa della donna, quindi è un ultimo significato a questa giornata anche in campo sportivo. Certo, abbiamo avuto questa fortuna e abbiamo approfittato. Com'è stato posare questo cartellone? Ma è stato molto divertente, anche una bella esperienza. E' stato divertente anche tra di voi, immagino, quel momento dello scavo? Sì, un sacco di risate. Ma chi è che vi ha detto questa idea? La Presidente? La Presidente, è mio. E come l'avete presa? Noi, sorridere, era anche una buona pubblicità per farci conoscere. Prima che azioni? Sono state? Sì, alcune critiche, ma non è niente di particolarmente così alla fine. Tra l'altro state facendo un ottimo campionato. Sì, molto bello. La vittoria sul Pisa dell'ultimo tour? Questo che soprattutto, le ragazze stanno facendo un ottimo campionato, perciò non è che noi pubblicizziamo una squadra che non sa che cos'è il pallone, sa giocare molto bene a calcio. Anzi, volevamo anche pubblicare backstage, ma non ci sembra il caso. Però devo dire che loro all'inizio si coprivano tutte, poi si sono dimenticate completamente, si sono divertite, si sono lasciate andare. Tutto questo è stato fatto in mezz'ora. Non sono professioniste, ma si sono comportate da tali.